80-90, tempo bello dicevamo in Salento, immagino un po' meno a Torino. Silvia, buongiorno! Ciao Giancarlo! Buongiorno Silvia, come stai? Benissimo! Tempato, cioè bruttino, com'è? Eh, no, magari, qui continua ad esserci il sole, abbiamo bisogno di pioggia. Ma davvero? No, hai ragione sul bisogno, però pensavo, io ti sto parlando a Milano dove da quattro giorni è veramente una cappa incredibile e ho letto anche che a Torino non è che stessi andando meglio, però sono... Sì, un po' di nebbietta, un po' di nebbietta, niente di che. Silvia Cara, buona domenica, cosa te ne fai in questa domenica? Poi tra un istante ascolteremo la tua canzone. Ma oggi forse vado a vedere una castagnata. Una castagnata? Sì. Oggi pomeriggio? Beh, un'occasione di incontro e condivisione, no? Sì, sì. Silvia, cosa hai scelto? Io ho scelto... Scusa, saluto solo il gruppo degli ascoltatori perché poi mi dimentico. No, figurati. Eh, ho scelto Pino Daniele con quando? E come mai? Perché proprio questa? Eh, perché mi piace il mare tantissimo, mi piace Napoli perché ci sono stata da poco, per questo. Poi mi piace Pino Daniele. Eh, ti piace Pino Daniele. Senti, visto che ci sei stata da poco e visto che io sono di parte perché, come sai, è la mia città, cosa ti porti a casa, cosa ti sei portata di quella città, quale immagine tra le tante di Napoli? Il lungomare. Il lungomare, il lungomare. Va bene, allora, pensando al lungomare, ti chiedo di annunciare la canzone e ti ringrazio per essere stata con noi. Silvia, buona domenica, buona Castagnata. Ciao, bella. Grazie, ciao. Questo è Pino Daniele con quando? Il lungomare. Il lungomare è un'esercizio. Il lungomare è un'esercizio. Il lungomare è un'esercizio.